Sto vedendo in diretta il messaggio di Hernanes che chiede scusa ai tifosi della Lazio, innanzitutto è tronco, magari non sa che entro un totte di secondi devi sbrigarti altrimenti lui ti tronca. Adesso lo interpretiamo in diretta, come non posso mostrarvi lui però lo faccio io. A tutti tifosi Laziale, lo devo chiedere scusa perché se io sapessi prima la mia capriola sarebbe stata interpretata come no. A tutti, tifosi Laziale, il mio piede, ma poi con una faccia proprio, ma infatti si, lo vedo che è proprio, manca solo la lacrima, vabbè, comunque, allora, Herny, questo l'avrà fatto con, come si chiama, il software adesso che va, il tweet, si no, quell'altro periscopio forse, vabbè, Allora, lì sono pochi secondi, quindi devi sbrigare il concetto, volevo chiedere scusa a tutti, beh, devi sbrigare perché se ti dilunghi, da parte sei prolisso, ma poi ti tronca perché più di otto secondi non puoi fare, quindi rifallo più velocemente, chiedi scusa perché effettivamente sa capriola è stato un po' il tapo di risparmiamo, eh, che cazzo. Noi ce li mandano male, sono tibosi, li volevano bene, se vuoi stare a piangere, ma pure dove vanno stare a via, piangere, cioè, poi vieni che fai, capriola. Fatti. Cioè, ma un minimo di intelligenza sti cacciatori, no, ma che cazzo.